L'ho pulito per bene, l'ho aperto così al libro, ora lo asciugo con della carta, aperto con un libro così, lo sgombro si chiama. Ho tolto tutte le spine, un trito di aglio e prezzemolo. Ora metto un pochino di olio, un pochino di sale, non molto perché poi mettiamo un pochino di capperi, poi aggiungo un pochino di succo di limone, aperto così si cuocere più facilmente, non ci vuole molto tempo. E si può fare anche sull'abbraccio, questo pesce, a 180 gradi per un quarto d'ora. Grazie.